Tutta la nostra classe, delle elementari, abbiamo trovato una chat, ci siamo lì, mamma mia che bellezza. Li hai riconosciuti tutti quando li hai visti? Tutti, tutti. Mia sorella ha fatto una rinfatria da quella della nostra classe degli superiori, si è innamorata di un suo vecchio compagno di classe e quest'anno si...